Roberto Piazza visibilmente emozionato, quasi commosso perché questa è un'impresa aver fatto questo finale di stagione. Per due motivi, primo per Vigo Bovolenta perché è un ragazzo che ha dato tutto quello che aveva per la pallavolo e quindi è dura digerire una botta del genere. Poi dopo ovviamente, dai, lasciamo spazio alla commozione, dopo la squadra secondo me ha voluto dimostrare che non era quella di Trento perché a Trento abbiamo giocato proprio male. Oggi abbiamo giocato una buona gara e ci siamo guadagnati sul campo il quarto posto. Una partita che ha detto molto sul livello raggiunto dalla squadra. Di là della rete c'era un top team. Al di là della rete c'era un top team, vero. Io avevo chiesto alla squadra e avevo detto due settimane fa che mi sarebbe piaciuto guadagnarmi il quarto posto per meriti nostri e non per meriti degli avversari. Ecco, oggi l'abbiamo fatto. Quindi grande onore a questa squadra che ha saputo giocare molto bene contro un avversario di primissimo livello. Adesso qui dentro vi giocate i quarti di finale playoff. Una bella avventura. Ragazzi fatemi, fatemi respirare, va a piacere. Però è bello, con questo ambiente qui può darvi una grossa mano. È bello, è emozionante, il pubblico, non finirò mai di dirlo, continua a stupirci. Il pubblico è il nostro uomo più in campo, è una continua presenza anche quando noi non siamo a Belluno, che è la cosa più bella in assoluto. Grazie.